Non c'è nessuno che mi può aiutare, quindi andiamo su L'erba la posso prendere Fatemi passare i ciccioni Oh, che succede? No, no, no! Oh, da i Gai! No! What? Guess you've dropped your good uncle act It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? Tchah, un moralist! E cosa ti farai a fare in mia sted? Non potrei mai essere in tua sted. Dicami perché sei venuto. Bastardo. Vabbè, gli affari sono affari, non immischiamoci troppo. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Oh, perbacco. Beh, io accetterei i soldi in questo caso, però. Che ripercussioni ci possono essere? Dannazione, il tempo no! Beh, ho ucciso il grifone. Va bene, li accetto, li accetto. Meno soldi per loro, almeno. Dov'è questo qui? Viene da qui. Questo è quello che ti senti molto dolore. No, no. Porco, non si vede. Dov'è? Devo fermare questo scempio. Eh, ma non c'è nessuno. Ah, è giù, è giù. No, è qua dentro. Porco, non si vede. Non posso andarci. Parbelli. Mercato, ma... La nazione. L'ho avuto a casa! Avrei voluto poter fare qualcosa, diamine. Mi rimarrà sulla coscienza tutte le frustrate date a questo qui. Ma chiudi il becco, Cortez, o come cavolo ti chiami. Hai perduto la mente, man? Cosa ho fatto? Ehi, Eric, lo è qui. L'artigiano, ma che magari vedo se riesce a farmi quello schema lì che ho ottenuto poc'anzi. Eccoti qua. Quartier Mastro? Puoi forgiarmi qualcosa? Ah, ecco lo schema. Manico? Vigname indurito, come lo ottengo? Schema, come... Aspetta un attimo. Componenti, cianfrusaglie. Arma d'acciaio. Forse è meglio riparare qualcosa. Sì. Sì, questo va bene. E anche questi, che sono quelli che ho trovato dentro allo scatolone. 32! È un furto! E va bene! Rimuovi il potenziamento, ma non ho potenziato nulla. Smontare gli oggetti che non ti servono per recuperare i componenti di cui sono fatti. Beh, lo sapevo già. Sì, vabbè, questo me lo ricordo. Potenziamenti da recuperare. Va bene. Bottega. Non accetti molte cose, eh? La collana, quanto me la valuti? 129. Non costava 400. Immagino che non sia per un fabbroco, un oggetto di tale valore. Allora, niente, credo. Quello schema che avevo, cos'era? Non posso controllare il mio inventario nel frattempo, eh. Ecco. Ripaggiamento, cose utili. Questa è la lettera di Yennefer. Ah, sì, sì. Andiamo al pozzo. Creazione oggetti, ecco. Dove potrei averla messa? Da nessuna parte. Forse l'ho semplicemente sbloccato e basta. Boh, questo non mi interessa. Vabbè, evidentemente l'avrò solo sbloccato. Sono qui per spiare. Vediamo un attimo. Adesso possiamo fare. Troppo basso, lingotto. Posso fare solo del filo, ma... Alla fine che me ne fo. Prezzo uno, beh. Perché no? Laccio. E con un laccio cosa mi faccio? Vabbè, non importa, basta così. So long. Adieu. Miglioriamo un po' i miei oggetti che non si sa mai. Venti che incontro un bulo o qualcosa del genere lungo la strada. O una rife, peggio ancora. Parlate inglese, cavolo! Non vi capisco quando usate questo dialetto. Anzi, meglio, parlate italiano. Ora che ci penso? Geralt, tu non parlavi italiano un tempo? Poi in tutto un tratto tutta la tua terra ha smesso di parlare la nostra lingua. Oh beh. Chi è in basso? Più qui. Sì. Prima di partire però voglio dare un'altra occhiata alla bacheca. Metti che ci sono altri compiti importanti. O remunerativi, per quel che vale. Saluti a te. Hai qualche panereccio o qualcosa di buono da darmi? Assolutamente no. Suppongo che una collana non ti fa gola. Dov'è che è? Eccola qui. Sempre meno. Qualcosa che mi può servire, magari... Il liquore di mandragora? Ah, cacchio, però costa troppo. Mi ricordo che mi serviva per... o forgiare qualcosa o per una pozione. Basta così, grazie. Via, ok! Forse è meglio passare prima alla locale. Non si passa. Mannaggia, devo fare tutto il giro! Elsa, avrai bisogno di cibo. C'è qualcosa che ti bisogna? Hai qualcosa in? Depende da cosa stai a fare. Molto bene. Coscettina di pollo? Facciamo anche un po' di pane, va. Cos'altro ho che mi può far recuperare vita? Un paio di mele cotte, dai. Basta. Sono di nuovo al verde, che bello! E' quello che succede quando sono in cauto... Quando si è incauti durante una battaglia. Ma non dovrebbe accadere più, adesso. Altri compiti nuovi. La libertà, qua non vorrei mettermi contro qualcuno. Un aratro. Boh, perché no. E quest'altro, invece... All'osteria, armati di pala, zappo piccola. Oh, perbacca. Sono disseminati di cadavere, eh? Dunque, è nato il fatto che non lo ha ai governati proprio nell'olio solutore. Sono stato messo ai ceppia, però. Questo... Mi sembra altro che probabilmente potrò dare la sepoltura sotto una tradizione. Accettiamo anche questo, dai. Questo cos'è, invece? O questo, o questo. Accetterò quest'altro. Disperso. Quanto sei lontano? Non sei vicinissimo. Non è il caso di saltare dalla gioia, Geralt. A est. Villaggio saccheggiato. C'ero passato prima? Non me lo ricordo più. Tutto ok, ragazzino? Ah, vaffanculo, senti, mi preoccupavo e tu mi tratti così. Piazza di merda. C'è un po' di più, parlare con il tuo figlio. Sono i miei fratelli, Bastion. Ma credo che è il mio adesso. Vedi, Bastion ha giocato i blacki in una battaglia, in un'altra parte del villaggio. Ho avuto una cosa che ho avuto. Ho ho detto, faccio come ho fatto, perdere una mano o due, così che non lo faccio. E' un po' affidato che era. Mi cammino la battaglia se fossi tu. Ho ho detto, un po' di corso e di città, di città. Alcune mi ha detto che avevo freddo di freddo, e ho ho fatto un torch, ho cercato di chassarci, è un po' di sceglie, potrebbe finire a morire se non fosse per il città. Ma credo che tu ti prendi queste braccia per più che il show. Voi con me, guarda i ghouls, mi prendi la battaglia e i'll payi a te bene. Certo? Fine, io ti aiutare. È solo... Ci sono alcuni giorni dopo la battaglia. Chancese che ci troviamo il tuo fratello vivere o slim. Molto slim. Ho pensato, ma... voglio trovare il suo corpo, almeno. Perchè il Bastion non ritorna lì nel sole con i neri. Mi ritorno sulla piazza, perciò la battaglia. Andiamo insieme da qui. Va bene. Ehi, aspetta, 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 devo un attimo prepararmi. Temono il fuoco, quindi Agni, no? O Igni. Agni. Mi confondevo con Agni e Rudra. Affrontati da Dante in passato. Non sei molto propenso a parlare adesso. Ti capisco. Ah, però. Basta il vistio scuro. Forse un giorno dovrò affrontare anche loro. E se lo meriterebbero, cavolo. Li affronterei con gusto. Siamo quasi, no? Ancora 50 passi. È vero, qua misurano la distanza in metri, in passi, in pollici, come funziona. Allora... Meglio armarmi. Lo faremo esserci, no? Cosa... cosa si fa adesso? È qui, bene. Se troviamo la scuola solo, Hassal troverà la scuola e guidarmi al bastione. Come va! As soon as we get this done, the better. As soon as we get this done. 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 Spada di Novigrad. Oren. Che non posso usare. Ancora un'altra spada. E qua invece? Ancora un'altra spada! Vediamo un po' qua. Ancora. Aia, vedo necrofagi in lontananza. O almeno li percepisco. Fuoco! State lontani, bestiacce! Fuoco! Stai lontano! Testa d'ascia. Questi potrò elaborarli in seguito. Estratto di veleno e sangue di ghoul. Dai, prima che faccia buio! Deve essere qui in zona. Avevo visto uno scudo, ma poi mi son distratto con i ghoul. Questo! Lontano lui. No. Lontano il bambino. Vieni, Assar! Puoi sentire il bastione, figlio? Ehm... Il cerchio si dovrebbe restringere, allora. Non è quello. Ehm... Altra testa d'ascia. Li posso smontare. Eccone un altro! Questo? No. Non sembra niente come lui. L'hai visto coperto dallo scudo. Come hai fatto? Concentrazione. Lasciamo stare i cadaveri adesso. Qualcosa, una traccia rossa. No, questo l'abbiamo appena visto, mi sa. Ehm... Qui dietro... Dai, non può essere lontana. Ecco, ecco, un altro! Deve essere questo, per forza. Ehm... Ehm... Anche lui? Anche lui? Anche lui? Come on, Assar! Puoi smontare il bastione, figlio? Questo? Dimmi il DC, ti prego. Ah... La pelle è bruciata. Potrebbe essere difficile dire, lo so, ma... Potrebbe essere lui? Oh, sì. Il bastione era grande. Un piede è broad. Questo sembra più piccolo. Ma... Potrebbe essere il fuoco, non è così? Che dice il cane? Oh! Ha trovato qualcosa! Impronte! O forse sono solo quelle del cane? Ma c'è più! Ma c'è più! Il mio lieutente chiede che noi sia una partenza di presenza. Bellistabolti... Lo scopo... E' tutto ciò che posso dire è... Un soldato con un palazzo che non sipp правa, sul confine sul città! Ora, no, è una ordine. Voi credere? Il Cretto. Stop! Mi ha giocato, i miei riempiti. Mi ha scusato. Questo ha bisogno di un'escrizione. Ma prima, voglio raccontare cosa sta a fare. Bastion! Ha questo il Guardia ha avuto? No. No, ha salvato la mia vita, ho fatto un corto a mia parte, e poi ho scopo in la cuota, non ne vedo nulla, Rosinia mi ha trovato a me, quando ha scoperto a la battaglia, i nostri piedi sono tornati, e così siamo, un uomo, un uomo, un uomo, trovato questo posto. Beh, non bisogna essere ingrati però. Magari vuoi mostrare che i Nordlings non sono così barbara come i Nilfgaardiani credono che ci sia. Beh, potrei dare gli gli uomini dei pares, insegnare gli di lavorare nel campo, ma... l'accento... bene, lo prenderò in. Grazie, Witcher. Il vostro saluto. E i Diovi proteggono te. Non... non avete bisogno di niente. Avevo... avevo giusto un laccio mi sembra fatto... fatto da poco. No, eh. Va bene. Questa tutta l'aria di essere un... forno. O è un forno o è un cesso, ma mi sembra che sia più un forno. Bravo, cagliate. Oh oh. Dai, cazzo l'umido! Fammi dare un'occhiata però cosa... cosa ho nell'inventario. Potrei o venderle queste spade oppure... si, smontarle per ottenere altre cose. Ah! Anche i trofei servono ad aumentare le nostre abilità, forte. Dunque, le spade... le spade sono qua... Poi c'era anche la testa d'ascia, se non lo ricordo male. Ma mi sa che è già un... un... un attrezzo per... per... le elaborazioni. Ehm... Anche mia creazione oggetti. Deve essere qua. Eh voglia... la... la forma è un po' fuorviante allora. Eccola qua, infatti! Sei... beh... Un... un altro occhiata al volo. Per vedere se posso depredare... qualcos'altro. E ha qualcun altro secondo me. Cosa abbiamo qua? Nessuno che tenga dell'oro? Sono proprio uno sciacallo. Gli ore non mi servono. Dovrei convertirli e non so come farlo. Una mazza. Testa d'ascia. Ancora testa d'ascia. Un'altra mazza. Azza mazza la ramazza e la ramazza azza mazza. Spada di velen arruginita. Un'altra. Ancora. Ancora. Non ci sono aree in cui posso... Fare un viaggio veloce. Mmm... Si! In realtà. Però è un po' di... un po' di... distante. Sempre è super. Ho visto un'aura... Ah, eccolo qua. Se non mi... Se non guadagno con questi... Neanche con le ricompense per i miei contratti guadagno abbastanza. Rutilia! Vieni! Oh, 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 oh. Non esageriamo. Non c'era una strada. Ah, ecco qua